Eccolo, eccolo, è troppo forte, è lui il miglior giocatore del mondo Allora Fere, quest'oggi dobbiamo fare una sfida davvero davvero complicata Siamo qua fermi per un motivo Ok Praticamente facciamo una sfida dove possiamo utilizzare in game Soltanto le armi che riusciamo a prendere nell'isola di spawn prima che inizi il game Oh mio dio ma è cattivissimo Quindi appena parte il game devi correre velocissima Cercare di accapare tutte le armi che riesci anche se sono doppioni Prendi tutto quello che riesci perché saranno le uniche armi che poi potrai raccogliere davvero durante il game Ok, no interessante, è carina È carina molto carina e penso che sarà molto divertente Sei pronta? Volevo dire una cosa La skin di calcio me l'ha fatta comprare Steph perché ha preteso che fossimo abbinati Non è vero Mi ha detto mettiamoci abbinati e prendi anche tu Perché cioè contando che non c'è l'Italia io non seguirò mai i mondiali E comunque dato che i consolini ce l'avevano chiesto chi tifiamo ai mondiali fare nessuno Io tifo all'Argentina per via di Messi E mi ha costretto a mettermi anche a me la divisa dell'Argentina E quindi tutto ok Ci siamo Via Aspetta io non l'ho caricato Steph sei un maledetto Oh mio dio Corro, corro, corro No, 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 perché non mi ha preso Corro, corro, corro Ok Tattico, tattico Oh mio dio Pump, pump Sì Sì Ti prego un fucile d'assalto, ti prego non posso resistere così Lo vedo, è lì lontano Fucile a pompa M16 verde Steph Ma quindi lo posso riprendere verde? Sì Sì Devi rispettare esattamente le rarità Ok E non me le ricorderò mai però E infatti adesso facciamo una foto Sicuro anche le rarità? Sì Oh io non trovo nient'altro È la difficoltà reale Eh, ok Telefono Oh, no, no, non le trovo altre Dai, ti prego l'ultima Non posso andare avanti così Ok Che gioco brutto Steph Che gioco brutto Allora Comunque me le ricordo Non erano tanti Tattico bianco Pump verde Ed M16 verde per fare Io ho M16 verde Fucile da caccia verde La nuova aroma viola Il pump verde E il tattico bianco Dove li hai trovati? Cioè eravamo nella tassa lobby Steph Ma sei sicuro? Che non siamo in un altro game Beh, per quello non le trovavi Cioè io ho fatto tutta una strada Così trovavo solo Pump Tattici, tattici, tattici Mitraglietta silenziata Che mi sono anche rifiutata di prenderla Quella bianca Beh, hai fatto bene Ok, andiamo? No Dai, non è male Scusa L M16 e due fucili a pompa Ok, sono in realtà orribili Però aspetta Tipo le granate e queste cose Le posso raccogliere? Sì Beh, scillini sì Cure sì Le granate sì Dai, le granate te le concedo Ci stanno, ci stanno Giusto perché sono due, tre Insomma, è una roba consumabile Non è che ne hai cinquanta E ci può stare Ok, ok, ok La cosa più grave Per come abbiamo lutato Sono le rarità Quello è gravissimo Cioè l'M16 massimo verde Dei fucili a pompa Sono i più scarsi possibili Ma sei sicuro che non vuoi tenere Il modello dell'arma E la rarità Vieni a curarmi Che è successo? Ho preso il ramo Come hai fatto a prendere? Cioè ti sei schiettato di faccia contro il ramo? No Tocchi il ramo Poi cadi e mori Grazie Allora, il prossimo game Mi lavo la divisa dell'argentino Perché non voglio più Avere a che fare con te Per favore, Stef Ah, io stavo giocando senza cuffie Me ne metto una a caso Adesso che facciamo? È pieno di gente E noi stiamo arrivando dopo Adesso Con un piccone Senza nulla In questa casa all'adesso Non c'è nessuno Quindi tu vai lì Io rischio un po' di più Perché sono depitore Esatto E vado in questa Beh, l'inizio è stato il perfect Mi è piaciuto Io ti odio Ecco, vampa fucile blu Che non posso prendere Vi prego Ok, almeno il pump Lo posso prendere Uh, M16 verde Prima chest che apro Ok, così Tattico bianco Appena ho perso la casa E pump verde Io sono già a posto Non puoi prendere altro Ti giuro, uno dopo l'altro Sono a posto Sono a posto Quindi mi devo giusto Riempire di proiettili Ma sono davvero a posto E ho anche le granate appiccicose Io ho bisogno almeno Di un'altra arma Di quelle che posso prendere Vi prego Bene, sì, vero Sì, abbiamo detto pure Se riesci a È misterio pure Se riesci a trovare Qualche altra arma doppione Tra quelle che puoi prendere Prendile perché a me servono Ok Per ora no Sto trovando shieldini Bende Tutte queste cose Quindi Ok A me stanno Molta sfiga Non ho trovato cure Ma per fortuna Ce li hai tu E ho soltanto il pump verde Che da quando è nerfato È un po' un problema Direi Nel senso che Mi servono almeno Due fucili a pompa Certo, sì Avevo intuito Allora, dove sei Steph? Siamo molto lontani? Ho sentito rumori strani Forse c'è un tipo In giro col carrello Ma sì? Ah, questa mitraglietta La vorrei tantissimo Ma non posso prenderla Ok Ok Allora, raga Vi ricordo cosa potevo prendere io I due fucili a pompa Quindi pump e tattico Verde e bianco L'M16 verde Il fucile da caccia verde E l'unica cosa interessante È la nuova arma viola Pieno di gente Non vedetemi Io devo andare a portare No, non mi hanno visto Stanno saltando sul distributore Quindi occhio Ok Io mi sono curato Però non ho armi a distanza Ok Li lasciamo? Sì, per forza Sono due? Eh, ne ho visto uno Che stava andando Mi pare verso un altro Eccolo Aspetta Lascialo avvicinare Dov'è? In casa? Sì Si è preso una sberlona Ok A terra Cos'hai di ciò che mi serve? Coraggio Ok, trampolino M16 verde Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Io sono a posto Arriva l'amico? Mi prendo un po' di colpi Che mi fanno comodo Un po' di legna Ok Io mi sto tirando tutti gli shield L'amico non arriva ancora? Non mi sembra, Steph Ok Bello questo pump blu Ma non posso prenderlo Eh già Neanche io Tocca lasciarlo lì Ah, il tattico Però sì, bello Non l'avevo visto Ok La senti la ceste? Sì Vado io? Sì Parlando di marivillamico alle spalle Ti prego non arrivare adesso Ok Tutto a posto? Sì Per lo meno Non provo a spararmi nessuno Quindi suppongo Che sia tutto a posto Vampo a bianco Shieldone Shieldone me lo prendo volentieri Ok Ottimo Io non sono ancora piena Beh, c'è andata abbastanza bene Sì, dai Dai, non male Non male Io poi ho avuto una fortuna incredibile Cioè le prime tre armi che ho trovato Erano quelle che mi servivano esattamente Quindi non devo più perdere tempo Vabbè, abbastanza comuni Quindi ci stava come fortuna Però Hai lo stesso avuto fortuna Eh, però almeno Steph Non devo più pensare a trovare le armi Devo solo raccogliermi i proietti Le sto concentrata È dato È una buona cosa Ok Io potrei trovare il fucile da caccia E l'arma nuova Come altre armi E farebbero comodo Nello suo piccolo team Ma arma nuova quali intendi? Il cecchino o il vampa? Il cecchino verde E viola Quindi l'ultima uscita Sì, quello termico L'arma nuova è sempre l'ultima arma che esce Gli altri non diventano più nuove E scompa di tanto Siccome il vampa Sì, lo so Io chiamo arma nuova cinque armi Esatto Ormai Perché qui il vampa Lo stesso nome del vecchio vampa Quindi è normale che ti venga da dire arma nuova Lo so Vabbè, andiamo Allora Mi sono preso anche un bel po' di legno In modo tale da essere abbastanza messi bene Ok E adesso partirà la parte difficile del match Assolutamente Perché ora iniziamo a trovare gente abbastanza equipaggiata E io vorrei un Ho visto un player Un caccia, volevi dire Sì Niente lo vedo E due teglielo dati Ok, ottimo Due shield da 20 Lo vedi? Sì Ma è solo? Secondo me no Però non so dove l'amico Esatto Non lo vedo E quello è fatto Qua ci sono funghi Ma siamo entrambi a 100 di shield Sì, purtroppo A me servirebbero mele Le direi Allora, queste cose sono state luttate Non mi sembra che sia rimasto nessuno Ok Suppongo Non vedo movimento Non so se lui è uno di quelli che scappa O di quelli che vuole combattere Esatto Vediamo un pochettino Anche se non lo vediamo Stiamo allerta, ovviamente Ok Proprietà privata Va bene Allerta dove sei? Secondo me c'è Vero? Dove sei? L'Argentina sta venendo a prenderti 30 di shield E dietro questa cosa di ferro Non sappiamo se è l'amico Ok Morto subito, vero? Sì, quindi era la solo Ok, non aveva niente che noi possiamo luttare Se non un po' di materiali e di colpi Ok, let's go Allora, colpi ne abbiamo più o meno uguali Perfetto Sì, non sono messa malissimo Che poi, noi mentre stiamo registrando questo video Che penso uscirà tra un po' di giorni E bla 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 Però mentre noi stiamo giocando Sta giocando l'Argentina Davvero? In questo momento? Sì Che figo Allora ci sta Però primo tempo 1-1 con l'Islanda Se facciamo schifo contro l'Argentina in questo momento Perdiamo la partita Allora non pensare con l'Argentina Devo essere oggettivo Per quanto posso tutti fare Se fanno schifo, fanno schifo Ok Allora, saliamo qui sopra Invece Portogallo contro la Spagna Molto meglio Io volevo mettermi la divisa dell'Italia Con questa spin Per fare tristezza Eh appunto Mettevi la depressione a tutti Esatto Quindi non puoi Esatto Chest, dammi il fucile a caccia Eh vabbè Eh vabbè Verde? Ti regalo Sì sì, verde, perfetto Eh non ho molto spazio Perché ho uno shieldino e 5 bende Allora aspetta, ti do un shieldino E player alla nostra destra I tat una volta venti di shield Stava mirando di fronte a sé Occhio E arma nuova Ma non è su di noi però, giusto? No, no, è me, è me, è me Ah ok Infatti mi sono riparata Sono riuscita a non prendere neanche un colpo Quindi va bene Eccoli, vedo Però dai ragazzi Non voglio perdere troppo tempo Uh C'hanno con me Mi odiano Stai Io non ho fucili da cecchino Quindi non li posso Lo so Dietro di noi non c'è nessuno che ci sta arrivando Giusto? Dovrebbe Ascolta, io per sicurezza mi copro Sì, dai Perché rischiare? Non ti ho preso? Eh Alla seconda volta Non volevo cadere in questo precipizio Io sto lasciando a fare Riesci Ok, no, arrivo, arrivo, arrivo Perché tanto c'erano troppi alberi Poca visione E non voglio perdere troppo tempo No, qua non la si finisce più È caduto di sotto uno Ragazzi c'è qualcosa che non va Ok L'ho colpito Prima che costruiste Ma more No Non vuole morire Dov'è il maledetto? Ancora lì sopra? Ucciso Ok Per un attimo ho avuto tipo una barriera invisibile Ci sono state cose strane La zona fere Dobbiamo andare Colpi niente Ne ho io 400 Ok Perché li stai prendendo sempre Ti sto rimanendo un po' indietro Riesci a prendere No Butta le granate e prendi quel portaforto Ok Materiali un pochino ne ho trovato Ok Io ho pochi materiali Gli ho finito in stable battle E poi il problema Io ho bisogno dei tuoi scillini Sì dimi Anche io ho bisogno di miei scillini Oh cavolo E ho bisogno di colpire il pompa Non mi è rimasto più una cepp Ok colpire il pompa ne ho Dai siamo messi abbastanza bene Guarda che bellino È segno Bellino Ok Allora Cariccio Ricarico le armi Visto player di fronte a noi Dietro non c'è nessuno Sto un po' rischiando Però Vediamo gli scillini Stef Facciamo uno e uno va Ok Tieni Ok a posto Tieni A posto Thank you Non ho materiali Tu ne hai molti Oppure pochi Ops 700 totali Un pochino te ne do Basta anche 100 Dai per arrangiarmi Poi li farmo Man mano che corro 12 vivi Ok Dici Ah sì Cavolo mi ha un po' Destabilizzato quel fight Dai dai ripigliamoci Ho avuto per un pochettino Una sorta Cioè tipo Mi bloccava la camminata qualcosa Che non vedevo E mi ha destabilizzato per un po' Eh magari boh Si è messo male qualcosa Alla costruzione Avevo iniziato così bene il fight Peccato Vabbè Vabbè dai l'importante è che è andata bene Allora Quasi in zona Ok Pochi materiali Quindi cerchiamo di farmarne Ovviamente raga non abbiamo potuto Prendere nulla di upgrade Tattico blu Ehm Fugile della caccia blu No beh certo Le regole sono Scar Non potevamo toccare nulla Quindi è stato un po' Una sofferenza Andar via Faccio qualcosa Qua di solito c'è un po' di roba Cildini Ok Ce li portiamo via Ok Sopra Io sto guardando sotto M16 blu Sopra colpi e legna Ok presi Sei preso tutto Perfetto Colpi del pompa Ok Ok Ehm Vabbè Stiamo entrando in zona Good Sì let's go Allora 11 vivi Quindi 9 player Quindi ancora parecchi team Sì E ci conviene Stare qua sopra per ora Ok Abbiamo ancora il trampolino di prima Perché siamo riusciti a non utilizzarlo Alla prigione Secondo me c'è già qualcuno Sì probabile Controlliamoci qua ad esempio alle spalle Se c'è qualcuno che sta facendo il giro stralargo Così evitiamo poi di essere presi alle spalle In modo irritante Ehm Non mi sembra No neanche a me Mi sembra tutto abbastanza tranquillo Ok Allora Non so Che strategia utilizzare per la fine Oh la prigione Steph Vedo uno nel tetto Lo vedi che corre lì solo Sì Bella call Aspetta un attimo Io mi faccio È uno di quelli pazzi Una struttura È uno di quelli pazzi Cioè si muove in modo totalmente a caso Sono in due Sì 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 Sto vedendo l'altro infatti Eh adesso costruiscono Si piazzano lì al 100% Infatti E Steph li spara Vabbè Dato Non so se Non ho contato bene Ho due o tre hit comunque Tutti di shield Ok Ecco qua Che se la prende con me Io non ho sparato Maledetto Pure lancia granate Uuuu Dai Fede C'è gente Sì dietro di noi Sento troppi passi Mi è arrivato un altro Steph Cioè Cavolo Ma quando sono arrivati Eh non lo so Abbiamo anche controllato Adesso questo mi fa una kill Perché è una persona simpatica No il fatto è che Il rumore dei razzi Ovviamente non mi ha fatto sentire questi Gli ho sentiti tardi Quanto ho poco di vita Grazie Che cavolo Cavolo Io ho detto Perché si è RPG Che lancia granate E lancia granate Era un altro team Ed erano questi No certo Anch'io A un certo punto Ho sentito dei passi Di troppo E ho detto cavolo Qui c'è qualcuno Però ovviamente In quel momento Mi stava esplodendo tutto Quindi Giustamente Gli ho sentiti tardi Già Allora Siamo rimasti Uno contro due Contro due Ok Quindi ci sono questi due E altri due E io sono fuori zona Di tantissimo Eh sì Quello non lo vedo Comunque Ma hai capito Da dove sono sbucati Non ho idea Non ho idea Vabbè era probabile Che qualcuno E' stato Lì No certo Però Ovviamente come sempre Non posso prendere Lancia granate Non posso prendere nulla Ok Penso che andrò via Poi di trampolino Sì Anche secondo me Ti conviene Mamma mia Qua Non hanno ancora Intenzione di muoversi Sembra che abbiano Tante munizioni Quindi Già Quello Mi vuole checkinare E non sembra una cima No Non si espone Capito Vorrebbe Ma non lo fa Quanti ne hai? Ti ho detto Che hanno tante munizioni E poi vuoi pensare A quello rimasto solo? O al team da due Che vi lascia da die Uh Quelli si fanno Non li avete visti Vero? Perché siete due No Sono girati verso di te Quindi non li hanno visti Che bello Ma quelli si stanno mettendo In posizione Adesso si spostano Giustamente Quello si è lanciato Quello sta passando da lì L'altro si è andato da l'altra parte Quindi posso andare? Sì Vai Vattene Sicuri? Va bene Penso di sì Penso di sì Let's go Beh adesso si scontreranno Per forza con quelli Cioè li vedono al cento per cento Si spera 100% Non lo direi mai Che cavolo Ok Allora Sarebbe troppo Non vedere È il momento Della verità Hanno sparato Hanno sparato Sì dai Ci sta Knocked out With a sniper Dobbiamo capire chi ha chi Francamente spero che questi Hanno knockato gli altri A me Esatto Andrebbe meglio Occhio 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 Era lì che costruivo Manco se ne è accorto Ma Non ho informazioni a riguardo Non so chi dei due Team E ancora in due Allora quei due Sono lì giù Quei due Tutte e due Altri Ok Credo che lì sia morto l'amico Ok Sì Davvero stai pensando a me Siete in quattro Quindi è morto Sì Hai quelli lì Dentro la zona In due Contro uno E tu stai pensando a me Sicuro Ho tirato dei missili Già è molto strano Che vuol dire sta roba Che forse è uno contro uno Contro uno contro uno Gli ho visti salt Ah forse stavano saltellando Perché stavano feitando Boh Ma gli ho visti troppo No forse avevano il dubbio Di avere qualcuno sotto Sì anche secondo me Dai non ha senso Sì 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 Controlla Forse hai visto un po' di erba Che si muove Alla tua destra Alla tua destra Ma dai Proprio a me Vabbè è indifferente Siete soli entrambi Quindi Perché Prenditela con l'altro Bravo Bravo Ok Allora Dove è l'amico di questo? L'altro è là Quindi Tecnicamente ti arrivano Tutti da di fronte In realtà Non sono a posizione Di uno ancora Perché uno mi sparava Ma l'altro L'amico di quello Eh io ti ho detto Li ho visti insieme Quindi è probabile Che sia nell'altra struttura In metallo ancora Non lo so Perché non ho qualcosa Di esplosivo Perché non l'hai trovato Nella lobby Ti devi calmare Guarda quell'altro Cavolo peccato Oh baby Questa è una bella Questa è una bella Affacciati ancora Fammela vedere La tua testa Allora C'è quello Autozone Prende danno? Sì Sì Prendono tutti e due Danno Occhio all'altro Steph Che magari si mette a mirare E rovina il game Quello solo Sei in zona Sei in zona Ho il tatto di nuovo Sei in zona Io ho il tatto di nuovo Ok Uno è sotto Adesso si scontrano Tutti per forza Ma che cavolo succede lì? Non so Che fanno? Uh Bello Con un lanciagranate Quante cose avremmo sistemato Nella vita? Ha voglia Oh Grande Bravissimo Dai Sei pure dentro tu Concentrati Con calma Steph Perché tanto poi si deve muovere lui Che sarà fuori Quindi con calma Lo so Fere È lì L'hai visto? Sì Sì l'ho visto Però non Occhio che cadi Occhio che cadi Ok Ok Be' danni Be' danni Ok Yes Grande Grandissimo Grandissimo Era difficile Poi perché Uno sono morta io dopo un po' E due perché avevi delle armi Che comunque nel game Sono svantaggiate Cioè grande Grande Bella 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 Ce l'abbiamo fatta Una bella challenge vinta Sono felice Challenge Challenge Devo dire che L'abbiamo vinta soprattutto Perché abbiamo lottato veloce Allo start Quindi abbiamo potuto utilizzare Almeno le armi base È stato divertente Qua sotto comprendono altri video Speriamo che il video vi sia piaciuto Nel caso scelte tanti likes Iscrivetevi al canale Cliccate la campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao